Musica Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Anche questa sera apriamo il nostro telegiornale con tutti gli aggiornamenti sulla Covid-19. Purtroppo nelle Marche si registrano altri 28 decessi, d'altra parte rallenta il contagio. I tamponi risultati positivi oggi sono 82 ma ce ne sono ancora più di 800 in fase di analisi. Intanto è stata individuata nella fiera di Civitanova Marche il luogo più adatto per la nuova struttura regionale di terapia intensiva. Il servizio di apertura è di Francesco Salvago. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sono 364. Nella giornata odierna si sono registrati 28 decessi di coronavirus di età media, 79 anni, con il 97,5% di patologie pregresse, tranno un 75enne di Pesaro. Gli ultimi 437 tamponi esaminati nelle Marche hanno fatto emergere altri 82 casi di coronavirus, una percentuale inferiore rispetto alla precedente, 18,7% contro il 24,7%. Con questi ultimi contagi il numero complessivo di positivi nella regione sale a 3.196 su 9.060 test effettuati. Lo dicono i dati comunicati dal Gores. Sono infatti in corso nei laboratori Marche Nord e di Ascoli i test su altri 443 campioni. Il totale dei tamponi esaminati è 880. I ricoverati correlati a coronavirus sono finora 1.141, di cui 162 in terapia intensiva, 257 semi-intensiva, 513 reparti non intensivi e 209 in area post-critica. Tra i contagiati, 1.709 sono in isolamento domiciliare. In lieve rialzo guariti 10 e dimessi dagli ospedali 133. Sono invece 6.368 i non positivi isolati in casa, 1.562 con sintomi, tra i quali 647 operatori sanitari. Individuata la zona fieristica di Civitanova Marche come sede della nuova struttura di terapia intensiva da cento postiletto delle Marche, per la quale era stata chiesta la consulenza di Guido Bertolaso. Ad annunciarlo il sindaco Fabrizio Ciarapica con un post su Facebook. Il consenso arriva anche da parte della consulente tecnica di Bertolaso, che dopo i sopralluoghi effettuati ad Ancona, che però non hanno dato esiti positivi, individua nella fiera di Civitanova Marche la struttura più adatta per allestire in pochi giorni un ospedale con cento posti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ed è morto a Pesaro, dove era ricoverato in rianimazione per una polmonite collegata al coronavirus, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale San Salvatore, Marcello Ugolini, 70 anni. Ci stringiamo alla famiglia e ci uniamo al loro dolore, ha scritto la direttrice generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Maria Capalbo, che lo descrive come un uomo, un professionista instancabile ed eccezionale, che lascia un vuoto incolmabile. Per anni ha diretto il reparto di pneumologia di Marche Nord dal 2005 al 2016. Dopo essere andato in pensione, ha riferito, ha proseguito la sua amata attività e anche in questo difficile periodo aveva deciso di stare in prima linea continuando a visitare i pazienti. Dopo il ricovero in medicina d'urgenza, le sue condizioni si sono dimostrate subito molto gravi, tanto da essere trasferito in rianimazione dove è rimasto per una ventina di giorni. Cordoglio anche della sindaco Ricci è un'altra perdita che ci addolora profondamente, ha detto. Siamo vicini alla famiglia. Più tamponi a chi è stato a contatto con persone contagiate. A chiedere maggiore attenzione e prevenzione sul territorio è il sindaco del comune di Colli al Metauro, Stefano Guzzi. Il mio non vuole essere assolutamente un atto d'accusa, ma sollevare un problema che come sindaco sul territorio sento sempre più forte. La presenza di potenziali soggetti che possono essere infetti o positivi e che non vengono seguiti, non vengono controllati. Io capisco la difficoltà della sanità di seguire i casi negli ospedali, la drammaticità di questi momenti, ma dopo un mese occorre cominciare un po' a pianificare di più la prevenzione sul territorio. Faccio questi esempi. Chi ha febbre a casa per qualche giorno e non viene visitato, viene magari sentito telefonicamente dal medico, dopo qualche giorno la febbre gli passa, questa persona immaginando che deve aver avuto giustamente una semplice influenza, poi esce e va a fare speso oppure torna al lavoro. Ecco, potrebbe essere un positivo e non lo sa, ma ci sono casi sul territorio che io conosco anche di persone, ad esempio, che hanno un positivo in casa e addirittura alcuni degli stessi familiari non sono nell'elenco di coloro che devono stare in quarantena. Ne conosco alcuni di questi casi e magari si sentono liberi di poter uscire e fare spesa. Un caso che mi è capitato ieri nel mio comune di una persona che ha all'interno del nucleo familiare un caso di positività, un familiare è stato in quarantena per i 14 giorni, finiti i 14 giorni la persona positiva lo è tuttora, mentre la persona in quarantena ha concluso la quarantena e chiedeva a me se poteva uscire, se poteva andare a fare spesa. Gli ho detto, ma per carità stai buona, stai dentro casa. Quindi occorre in questi casi ormai un po' più di prevenzione diffusa, un po' più di attenzione. Come io ho suggerito l'altro giorno, sentivo ieri anche il dottor Valeri che confermava questa tesi, attraverso i medici di base, un po' più di prevenzione, dandogli la possibilità di poterlo fare, quindi dandogli le attrezzature, dandogli il kit di sicurezza, dandogli la possibilità anche di operare. Una serie di tamponi, io capisco che i tamponi non si possono fare in maniera diffusa e a tutti, è impossibile, ma perlomeno ai casi ritenuti più a rischio o quelli più probabili di positività o ai suoi diretti familiari, io credo che ormai occorra farlo, perché altrimenti ci troveremo sempre di più persone che in uno stadio avanzato di malattia arrivano agli ospedali, uno intasano gli ospedali, due magari non riescono neanche a risolvere la situazione, tre nel frattempo hanno infettato nei giorni precedenti diverse persone che a loro volta sono dei positivi che girano nel territorio. Occorre concentrarsi a questo punto di più sul territorio, sulla prevenzione diffusa sul territorio, dando anche ai medici di famiglia la possibilità di poter operare. Io chiedo questo da sindaco, ma non è che lo chiedo come, ripeto, atto d'accusa o come qualcuno che ha una ricetta in mano, però credo che dopo un mese, che questa vicenda purtroppo va avanti e durerà ancora a lungo, serva un'attenzione di più verso il territorio. Proseguono i controlli da parte delle forze dell'Ordine e della Polizia Locale. Nella giornata di ieri, nella provincia di Pesero Urbino, sono stati effettuati 489 controlli per la verifica sull'osservanza del divieto di spostamento previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono stati compiuti 274 controlli alle attività commerciali senza alcuna contestazione di violazioni. Ed ora vi mostriamo questa foto che è stata scattata intorno alle ore 17 in via della Bazzia. Una pattuglia della Polizia Locale di Fano, insospettita dalla targa irregolare di un'auto perché fatta mano, ha affermato il conducente, un 36enne del posto. L'uomo però si è rifiutato di scendere dal veicolo e temendo per un suo possibile malore, gli agenti hanno allertato il 118. In seguito il 36enne si è convinto, è sceso autonomamente dal mezzo e dunque non è stato necessario alcun intervento dei sanitari. La targa però è risultata radiata e dunque l'automobile è stata sequestrata. Proseguono ulteriori accertamenti sulle responsabilità dell'uomo. Bandiere a mezzasta in tutti i comuni martedì 31 marzo. L'appello a raccogliere l'iniziativa promossa da Anci nazionale arriva anche nelle Marche e Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche, la rilancia a tutti i sindaci. Viviamo un momento di grande difficoltà, ha scritto Mangialardi, nella lettera indirizzata ai colleghi sindaci, in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l'ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura. Mi faccio portavoce di una iniziativa promossa dal presidente Antonio De Caro, spiega Mangialardi, e che sosteniamo con convinzione perché il senso di comunità trovi perfetta sintesi in un gesto semplice ma significativo. Chiedo di esporre le bandiere a mezzasta martedì prossimo alle ore 12 mentre il sindaco con fascia tricolore osservi un minuto di silenzio davanti al municipio o al monumento ai caduti a nome di tutta la cittadinanza che sarà chiamata a farlo nella propria abitazione. Le strutture di Marche Nord sono sature e per far fronte all'emergenza legata ai posti letto sono state avanzate diverse proposte e tra queste rientra anche quella di acquisire l'ex convitto Vittoria Colonna Afano oggi di proprietà dell'Inps il servizio di Lino Balestra. La battaglia contro questo virus è una battaglia che l'azienda ospedaliera Marche Nord con le sue strutture, il suo personale, le sue competenze sta affrontando da sola. L'emergenza nelle Marche ma soprattutto tra Afano e Pesero è sovrapponibile in rapporto alla popolazione con quella che si sta verificando in Lombardia. Forse qui abbiamo alcuni giorni di ritardo ma le curve sono assolutamente sovrapponibili. Ben diversa è la situazione invece nelle altre province marchigiane e di Ancona che non hanno certo i numeri che invece si stanno verificando. Qui anche le strutture sono sature e diventa una lotta impari per trovare spazi e strutture idonee per decongestionare gli ospedali di Fano e Pesero. Qui non è arrivato Bertolaso, nessun sopralluogo, nessuna valutazione di soluzioni possibili. Stiamo facendo tutto in casa con le nostre forze finché reggeranno. Per questo i vertici di Marche Nord stanno guardando in casa per valutare possibili strutture che possano accogliere i malati meno gravi o in osservazione breve in modo da alleggerire il carico sui reparti. Tra queste a Fano c'è anche l'ex struttura di accoglienza dell'Inps Vittoria Colonna e l'infermeria da 20 posti dell'ex caserma Paolini. La situazione nel comune di Fano resta comunque grave. L'invito ovviamente per tutti di non muoversi da casa e ovviamente come comune di Fano come protezione civile stiamo collaborando con la regione con la sanità con tutti la protezione civile quindi con il volontariato eccetera per mitigare i problemi che la gente ha. Tra l'altro in questo ambito abbiamo anche proposto alla regione Marche di poter utilizzare abbiamo suggerito di poter utilizzare per le funzioni che potrebbero essere utili come ad esempio l'ampliamento dei posti di terapia intensiva oppure l'ampliamento dei posti di letto magari a bassa intensità la struttura del Vittoria Colonna che è l'ex convitto di proprietà dello Stato che si trova anche fra l'altro vicino all'ospedale Santa Croce e dunque crediamo che quello possa essere una struttura facilmente riconvertibile agli scopi della sanità ovviamente la nostra è solo un suggerimento perché capiamo benissimo che i problemi da affrontare in questo momento sono altri e può darsi che i numeri che dentro il Vittoria Colonna potrebbero ricavarsi possono essere insufficienti però insomma questa è una disponibilità piuttosto che ad esempio andare a riconvertire la caserma Paolini in quanto dato troppo tempo abbandonata la struttura del Vittoria Colonna invece è in un buono stato di manutenzione subito disponibile soprattutto come ho detto di proprietà dello Stato vicino a Santa Croce e ancora tanta solidarietà per combattere l'epidemia il consorzio di gestione Molluschi che raggruppa le imprese del settore della pesca e delle vongole delle flotte di Fano Pesaro Gabiccemare e Marotta Mondolfo ha voluto sostenere lo sforzo che il personale medico ospedaliero impegnato in prima linea al contrasto della malattia sta generosamente mettendo in campo per queste ragioni il Cogimo Pesaro dopo aver raccolto le donazioni da parte di tutte le 65 imprese del compartimento marittimo ha versato sul conto corrente degli ospedali riuniti di Marche Nord una somma pari a 6500 euro e rimaniamo in tema di solidarietà perché anche i soci del Lion Club di Fano hanno dato il loro contributo alla lotta contro la pandemia del coronavirus attraverso una donazione diretta a favore dell'azienda ospedaliera Marche Nord la donazione consiste in un ventilatore presso volumetrico doppio tubo che sarà impiegato nel reparto di medicina subintensiva nelle prossime settimane si aggiungerà poi un nuovo contributo per l'acquisto di altre attrezzature necessarie alla cura delle persone contagiate e oggi tutte le diocesi d'Italia si sono recati in un cimitero per un momento di raccoglimento di preghiera per tutte le vittime scomparse a causa del coronavirus noi questa mattina siamo stati al cimitero centrale di Fano tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci quello del coronavirus è un momento che ha completamente stravolto il quotidiano delle nostre vite uno dei numerosi aspetti è quello della perdita dei propri cari dovuta proprio a questa situazione tanti di questi defunti sono morti isolati senza alcun conforto né quello degli affetti più cari né quello assicurato dei sacramenti le comunità cristiane non fanno mancare comunque la loro vicinanza di preghiera e di carità tutti i giorni i sacerdoti celebrano la messa per l'intero popolo di Dio vivi e defunti ma l'attesa è sempre la stessa ovvero la fine di questa emergenza quando si potrà tornare a celebrare l'eucaristia insieme in suffragio di questi fratelli scomparsi ed è proprio per questo che oggi tutti i vescovi della chiesa si sono recati da soli ad un cimitero della propria diocesi per un momento di raccoglimento veglia di preghiera e benedizione anche a Fano questa mattina Don Marco Presciutti vicario generale della diocesi in rappresentanza del vescovo Trasarti ha celebrato questa funzione alla presenza dei suoi collaboratori più stretti primo cittadino e vice sindaco la conferenza episcopale italiana ha suggerito a tutti i vescovi di tutte le diocesi d'Italia di vivere questo momento scegliendo un cimitero della propria città della propria diocesi per pregare per ricordare tutti coloro che in questi giorni sono morti e magari non hanno avuto nemmeno la possibilità del conforto dei cari non hanno avuto la possibilità di una celebrazione delle esegui come facciamo di solito ma sono stati trasportati dagli ospedali ai cimiteri direttamente per ricordare tutti coloro che soffrono per la pandemia tutti quelli che sono stati raggiunti direttamente indirettamente e quindi un momento di preghiera di solidarietà perché abbiamo bisogno anche di questo conforto non siamo solo terra carne ciccia siamo anche spirito abbiamo bisogno di alimentare questo desiderio di una prospettiva di speranza che supera il limite dello spazio del tempo che va oltre la storia e quindi celebrare questa solidarietà e questa speranza tenace in Cristo Gesù e parliamo sempre della nostra diocesi perché domenica 29 marzo alle ore 10 Fano TV seguirà in diretta la Santa Messa preseduta dal Vescovo Armando Trasarti dal Duomo e anche Fano TV nel tardo pomeriggio di oggi ha trasmesso in diretta la preghiera del Papa con la benedizione eucaristica Urbi e Torbi ci lasciamo allora con il video del Santo Padre alla Basilica di San Pietro grazie per aver seguito il nostro telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti